Continuiamo con la nostra mattinata, sono venuti qui a trovarci in studio due scrittori, stiamo parlando di Marco Aluzzi e Fabio Marani, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti! Scrittori che ci faranno anche, non so, ci faranno anche ballare, perché insomma il vostro titolo c'ha dentro una parola swing, no giusto? Com'è che è? Sì, è sombrero swing! Sombrero swing, quindi ci fate anche cantare, ballare, danzare? Ma sicuramente sì, perlomeno ridere e giocare Eh, infatti, stiamo parlando di un libro giallo, giusto? O noir, no? Perché io ne parlavamo con una libreria, ci spiegava la differenza, è giallo o noir? È noir Ok, perfetto, quindi non è detto che finisca bene, ma hanno detto che è questa La differenza sostanziale è quella, ma hanno detto giallo e noir Il giallo sostanzialmente finisce bene, nel senso che si capisce tutto, chi è stato, chi non è stato Il noir non è detto Non è vero E poi c'è, non c'è l'indagine, nel noir non c'è per forza un'indagine Non c'è per forza un'indagine Libro che appunto, quando è uscito Sombrero Swing? Un anno Un annetto ormai, insomma, si è fatto conoscere E adesso esce parte due La parte due, perché abbiamo lasciato tutto in sospeso E adesso tutti quelli che ci dicono, eh ma non è detto che non era giusto Che insomma la cosa Devo aspettare un anno Devo aspettare un anno per capire come vanno a finire questi due matti, invece adesso sta arrivando, l'anno è passato Eh ma poi, per le serie su Netflix va bene, per il libro dei due no, scusa, allora anche qui Aspettate e ne capirete meglio Ne capiamo meglio anche noi, subito dopo una piccola pausa pubblicitaria, come si dice in questi casi E ne parliamo appunto con i nostri autori qui Insieme, perché insomma sono tante le cose da raccontare Dov'è che è ambientato, giusto così? A Milano in un quartiere popolare Ah che strano Dici a Milano dove, in un quartiere popolare, esistente o inventato? Esistente, la Cagnola, ci hanno detto di sottolineare la Cagnola La Cagnola, quindi zona Viale Certosa, giù di là Ancora gli ultimi giorni ci hanno detto, mi raccomando la Cagnola Perché il Cagnola non si può sentire No, 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 è la Cagnola Tra Certosa e MacMahon, giusto là in fondo, no? Esatto Ok, in Piazza Castelli, quella zona lì Perfetto, perfetto Quindi va bene, è ambientato lì Quindi se siete di Milano lo capirete ancora di più Se non siete di Milano magari vi appassionate la città di Milano invece Quindi insomma E anche questo che cercheremo di capire meglio Fra poco con Marco Aluzzi e Fabio Marani Non mi ha dato il titolo, è sempre quello o ho cambiato? È sempre Sombro Swing Il primo era Sombro Swing, la volta buona Questa è Sombro Swing, quelli che Quelli che? E poi spieghiamo anche A che fare con quelli che Allora sì che dobbiamo spiegarlo Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui insieme agli autori We Pray e Coldplay insieme a chiunque passasse di lì sembrerebbe Perché c'è Little Smith, Sims, Burna Boy, Eliana e Tini C'è, non so, se avete uno zio che sa fare qualcosa Mandateli, ho tanto una prossima canzone a fare anche con lui Vabbè, comunque invece non sono due a caso Due che passavano di lì I nostri ospiti di oggi sono due scrittori, due autori Gli autori di Sombro Swing Marco Aluzzi e Fabio Marani Qui a presentarci Sombro Swing Quelli che? Sì, la seconda parte Quelli che? Quelli che dopo aver subito tutto quello che hanno subito nella prima parte Tentano in ogni modo di riscattarsi Come la canzone di Annacci Quelli che... però c'è un finale che non si può... Eh no, il finale non lo diciamo Esatto Il problema qui è che non possiamo neanche dire l'inizio però Perché se non hai letto il primo, oppure sì? Eh... Bella domanda Perché qui è Previously on Sombro Swing Cioè, come funziona qua? Che di solito, guardate la presentazione del libro Dite, allora, mi racconto il libro Inizia così, tanto le prime pagine sono quelle Poi non vi dico come va a finire E qui non possiamo dire inizia così Perché se non l'hai letto... No, no, si può dire Si può dire Si può raccontare Perché in effetti... A grandi linee magari Sì, è incentrata Fabio ha paura, te lo dico Marco ha paura Ti guarda Non dire quella cosa Fabio non dire quella cosa Non dire quella cosa No, non quella Quella così È un anno che facciamo presentazioni Quindi l'abbiamo raccontato tutto Quindi possiamo dire benissimo Quasi tutto No, la cosa da dire è che Appunto è un noir Incentrato su un colpo Che È un colpo che Sarebbe stato il colpo del secolo Se fosse avvenuto E noi l'abbiamo fatto avvenire Marco Abbiamo... Abbiamo inventato il colpo del secolo Abbiamo inventato Sì, siamo Abbiamo preso informazioni Sulla Pinacoteca Ambrosiana Ok E ovviamente Come tanti milanesi Sanno Ma anche Tanti che non sanno Cioè Nel 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 cavuò C'è il codice atlantico Di Leonardo da Vinci Ok E noi abbiamo deciso Di farlo sparire Ecco, mi fatevi capire Come avete fatto le ricerche Senza finire Sotto la lente della Digos Cioè, dovrai capire Questa cosa qua No, in realtà lui è stato Sì, allora In Pinacoteca ho fatto due o tre domande particolari E alla terza Quasi, quasi Nel senso che Chiedevo dove fosse Se il cavuò è sotto Sopra Insomma, in qualche punto Della Pinacoteca E alla terza ho cominciato a vedere Una guardia Che praticamente mi seguiva Da lontano Con discrezione Però mi seguiva No, a parte quello Poi abbiamo Abbiamo Comprato Un DVD Dove All'interno di questo DVD C'erano Le spiegazioni C'erano le immagini Del cavuò Però Non Molto Di più Ovviamente Anche perché è un cavuò Credo che infatti C'è un minimo di sicurezza La cosa interessantissima È che questo cavuò All'interno Ha L'aria condizionata Che deve rimanere A 20 gradi Sempre E Ha l'apertura Ogni due ore Quindi c'è uno Non possono Non puoi Vado giù a vedere Come sta il codice No Aspetta le due ore Esatto È interessante Sì Poi dopo Chiaramente come tutte le fiction Ci abbiamo messo qualcosa di nuovo Certo C'è gente che ci ha messo acqua Ci ha messo In questi anni abbiamo aspettato Qualunque cosa Palombari che rubavano lingotti d'oro Insomma abbiamo visto di tutto Abbiamo visto di tutto Quindi ci mancherebbe Quindi vi siete invitati Da questo Ipotetico colpo Appunto del secolo Che sappiamo In inizio Si capisce Bene riuscito Quindi a questo punto Capiamo Da lì parte tutta la storia Ah ecco Ho dato per scontato E invece Non è proprio Bene riuscito Non diciamo Come si dice Bene ma non benissimo Esatto In questo caso Come si dice L'intervento È stato effettuato Alla perfezione Ma il paziente è morto Ecco Ottimo Ottimo Direi Da lì parte tutta la storia Storia che appunto si dipana All'interno della nostra città La città cos'è? Protagonista Scenografia Soggetto Oggetto Cos'è? Assolutamente Protagonista Scenografia E scenografia Ok Perché Parte tutto dal quartiere Cagnola Dalla Cagnola Ma si dipana lungo Praticamente quasi tutta la città Insomma Esatto Come mai proprio la Cagnola Com'è che vi è venuta questa idea Della Cagnola Ci avete vissuto C'era la vostra fidanzata Quella che No la Cagnola È stata una scelta Che è avvenuta Quella domenica Famosa Dove noi abbiamo fatto un giro Per questo Ce l'avevamo Messo Tra quelli potenziali Perché voi Guardate già la storia Ma dove l'ambientiamo Esatto L'ambientazione è importante Allora Ci siamo accorti Che c'era un quartiere interessante Che era Il quartiere La Cagnola E una domenica Siamo andati a visitare Le vie Ok E arrivati in via Bodoni Troviamo Un locale Un bar L'Arci Vabbè Vi posso dire una cosa Che voi non sapevate Sono stato barista In quell'Arci No non sto scherzando Non sto scherzando Avevo 18 anni Facevo il barista In quell'Arci Ma sai che Quando parliamo della Cagnola Nessuno sa dov'è Ma c'è sempre uno Che dice Ma io ho già abitato Io ho già abitato Io ho già abitato Io ho già abitato La fidanzata stava Nella via Michelino a Besozzo Che è quella Ah certo Quella che chiude Tra l'altro poi Abbiamo scelto La Cagnola Perché cercavamo Un quartiere Che non fosse Di quelli famosi Cioè potevamo scegliere Ortica Giambellino Adesso facciamo torto Agli altri quartieri Quali erano gli altri quartieri Sulla lista Che invece non sono finiti Blasonati E raccontati Quello Di Biondillo Dove ha Ambiente Via Padova Esatto Perché è già usato Già strausato Poi è talmente Diventato famoso Che Questo scrittore Biondillo Si può dire Lui ha creato Un commissario Un commissariato Che non esiste E dopo un po' di anni L'hanno fatto veramente Come i Simpsons Che predicono il futuro Si dice Esatto Quindi anche lui È riuscito A fare qualcosa del genere Poi abbiamo Tolto Il giambellino Perché ci sembrava Troppo Giambellino Però che mi porta A dire Giambellino Il cerutigino E tutto Alla fine Fate fate che non volete finire lì Ma alla fine siete finiti Perché quelli che mi dicevate In realtà Nasce un po' Da una certa dichiarazione Che qualcuno ha fatto Sui vostri precedenti libri Ah sì Assolutamente Marco Dico tu che Luca Crovi Luca Crovi Ha letto il libro C'è stato Questo momento In cui noi L'abbiamo conosciuto Circa Cinque anni fa Ormai sono passati Quattro Quattro tutti E lui ha detto Va bene Lo leggerò E dopo una settimana Ci ha chiamato Dicendogli Che il libro Il manoscritto Gli era piaciuto parecchio Ok Quando è arrivato Abbiamo seguito Tutto l'iter Per arrivare alla pubblicazione Lui ha fatto Questa quarta di copertina Dove Faccio Dillo tu Raccontalo tu C'è l'ha detto lui C'è l'ha detto lui Guarda ragazzi Io questa cosa Ve la voglio scrivere Perché Mi ha divertito proprio E ha scritto Adesso testualmente Non mi ricordo Parafrasando Come si dice In questi casi Che i personaggi E l'atmosfera Del nostro romanzo Ci ricordano tantissimo Le canzoni di Giannacci E le poesie di Carroporta Beh insomma Poca aspettativa No pressure Come si dice in questi casi Esatto E tant'è che adesso Invece chi andiamo a scomodare Per il prossimo libro Cioè non lo so A questo punto Il Papa no Non lo so Il Papa si scomoda Sì 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 Assolutamente Andiamo a scomodare Cocchi e Renato Pure Pure loro Sì 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 Assolutamente Tutto questo Ricordiamoci L'ambientazione Dei vostri libri Sono 1973 Vi dicevate prima Più o meno Quella è data No precisamente Precisamente 1973 La settimana L'ultima settimana Di novembre Che coincide Perché questa è un'altra cosa importante Coincide con La prima Che chi ha la nostra età Se lo ricorda La prima domenica Di Milano senza auto Di Austerity Ah l'Austerity L'Austerity Bene andiamo con un po' di musica Allora sono i Proclaimers I'm gonna be E senza Austerity Fanno ben 500 miglia The Proclaimers I'm gonna be I'm gonna be Siamo qui invece A raccontare Di Sombrero Swing Quelli che Libro di Ormai Prossima uscita Quando esce Dateci un po' anche appunto Le coordinate Per sia seguire voi Sia per poi Accattarci un libro Allora Il libro esce O l'8 O il 15 novembre Ci hanno Parlato in termini tecnici Due opzionanti Dicendo O lancio 45 O lancio 46 Che non capivo Poi dopo sono le settimane Praticamente Ah ok Le chiamano con questo numero Esatto Si impara tutto Si impara tutto E niente Poi inizieremo le varie presentazioni La casa editrice Edizione Il Viandante Edizione Il Viandante Di Chieti Stessa casa editrice Del primo Del primo Sì sì Continuiamo La collana Esatto La collana nero Il Viandante Così come è chiamato Sì Stessa casa editrice E stesso tutto Perché noi Avevamo ideato Una storia unica Poi per Esigenze editoriali Avevamo sentito Anche altre case editrici Ed era Un'opera prima E dei scrittori Non poco Superare Tolkien Già l'opera prima Non era consigliato Infatti Giustamente Assolutamente Quindi ci hanno A Milano si direbbe Chiamali Pirla Cioè nel senso C'è nel senso No è vero Guarda C'è una Importantissima casa editrice Svizzera Che è la Todaro Che lavora tanto con Milano C'è proprio L'abbiamo mandato C'è detto Oh ma molto bello Dopo un quarto d'ora Mi mandò un'americo Scritto Potrebbe essere anche la Bibbia Ma noi non Troppo Eh beh sì No ci sta Ci sta È vero Avete trovato invece La vostra quadra Giustamente Grazie al Viandante Quindi insomma Quindi questo mi fa capire però Che non ci sarà una terza parte Oppure ci sarà Eh No non ci sarà una terza parte Ma molto probabilmente Ci sarà un terzo Un secondo episodio Ah ok nel senso Continuano Continueranno I personaggi I personaggi appunto Che ritornano dal primo Adesso nel secondo Che diciamo Prima appunto Essendo un noir Non è però nel classico Cliché del giallo Invece dove c'è appunto Il commissario Che è il protagonista Che si porta dietro In tutti i Sessantotto Settanta libri Che ognuno può scrivere Nella sua carriera Esatto Ma qui invece Sono altri protagonisti Che quindi sono I due Che volevano fare la rapina Cioè Rubare il codice atlantico Questo giusto? Sono principalmente Gino Gino ed Eugenio Ok Il Gino e l'Eugenio Assolutamente Ed è scritto anche così Con l'articolo davanti Con l'articolo davanti Un'altra cosa Che ci ha fatto troppo ridere È che abbiamo messo I numeri dei capitoli Mianesi E' piaciuto a tutti E supportati Da dei comprimari Di russo Per esempio Sombrero Perché appunto Adesso arriviamo Lo diciamo alla fine Perché tutto il tempo Lo sarete chiesti Sto titolo Sombrero Swing Chi è il messicano qua? Chi è il messicano Che va a ballare lo swing? No Siamo fuori strada Siamo fuori strada Sì sì Sombrero Swing È un'idea Che ci è venuta Proprio All'ultimo momento Prima di proporre La casa editrici E Fondamentalmente Sombrero È il terzo protagonista Si può dire È un cavallo Un cavallo Cavallo da corsa Ah Detto così Già Per tutto un mondo Esatto Perché continuo a pensare Che vada a ballare lo swing Quindi Adesso vai sulla seconda Perché se no Io continuo a pensare Che questo sombrero Si metta a ballare Questo cavallo che balla È talmente folle Che potrebbe veramente Ballare uno swing No No la seconda parte È che inizialmente Il titolo di progetto Doveva essere O operazione sombrero O sombrero blues Perché avevamo identificato Che in realtà Questo romanzo Fa ridere Ma come le canzoni Di Annacce E le poesie di Carroport C'è un sottofondo Di malinconia Nostalgia Più che malinconia Poi dopo un giorno Abbiamo sentito La tromba Di Raffaele Köhler Suonare E abbiamo detto No Questo è il ritmo Del nostro romanzo Quindi sombrero Swing Quindi in realtà È proprio Il ritmo Si si Ci ha suggerito Köhler In quella serata Ci ha suggerito Il titolo Involontariamente Infatti lo sa adesso Lo sa Gli avete detto Gli abbiamo dato Anche una bottiglia di grappa Per ringraziarlo Credo abbia apprezzato Suonerà ancora meglio E più forte la tromba Tra l'altro Ha suonato Le nostre presentazioni Più di una volta Ecco Questa cosa Abbiamo pochi minuti Mi spiace Perché volevo Un attimino Approfondirla Milano è una città Dove davvero Si fanno tante presentazioni E fatte anche bene Mi sembra O sbaglio Si 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 Milano è È una città ricca Da questo punto di vista Molte sono anche Passano Diciamo Sottotono Sordina Usiamo come la tromba Esatto Passano in sordina Ma in realtà Ce ne sono tantissime Per esempio I quartieri Come Per esempio La Cagnola Dove abbiamo ambientato Sono ricchi Di piccole associazioni Che Sui territori Portano avanti E comunque Anche tante libri Indipendenti Come L'alcovo Della ladra Come Quella Che siamo andati A fare Questa bellissima manifestazione Mercoledì scorso Che si chiama Mamì La libreria Oktoberfest La bionda Dove All'ordica Dove 11 scrittori Hanno Il tempo Di un boccale di birra Per presentare Il proprio libro È stato molto divertente E ce ne sono Diverse Diverse È molto ricca La città Sì sì Io saluto Alessandra Di Collane d'autore Ad esempio Che è un'altra libreria Che c'è qui vicino A San Siro Quindi insomma Tante tante sono Le piccole realtà Che Però fanno tanto Perché appunto Non è tanto poi Il libro in sé Che uno È brutto dirlo così Ma solo può comprare Dove vuole Ma è proprio invece Conoscere Capire E poi affezionarsi A quel luogo Quindi poi Esatto A quel punto Lo vai appositamente A comprare in quel posto Perché sai che lì Il libro è sempre lo stesso Ma lì ha un gusto diverso Eh sì La fidelizzazione E dei clienti No no Ma poi queste cose qua Molto spesso Sono Sono anche degli show Cioè movie Sono fatte proprio bene Bene Allora Lancio 46 Io 45 46 45 Quindi L'8 O 15 novembre Uscirà Sombra o Swing Quelli che Abbiamo un minuto Ditemi voi Cosa non abbiamo detto Che dovevamo per forza dire Cosa non abbiamo detto Allora Noi invitiamo tutti quelli che Allora Quelli che non hanno Non sanno nulla Quelli che Quelli che non sanno nulla Di questa storia A cominciare ad andare A comprare il primo E poi invece Quelli che da un anno Ancora stanno aspettando Il secondo Li avvisiamo in questo momento Che manca veramente poco Sì e poi noi ci stiamo preparando A fare nuove presentazioni Mi raccomando E aggiungere anche Quelli che vogliono leggere Qualcosa di diverso Assolutamente Perché siete veramente Posso dire Un po' strambi e diversi Cioè Grazie a voi 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 Grazie mille Ci sentiamo presto Ancora una canzone E poi torniamo qui Con i saluti finali Grazie a voi